Il sistema tedesco tra i vari sistemi che avevano messo in campo in queste settimane è il migliore. Detto questo non è però il migliore di quelli messi in campo, non è il sistema ideale, basti pensare che non ci sono le preferenze, quindi nella parte proporzionale del 50% mi sembra che questo è il tema, poi vedremo la legge, non c'è la possibilità di scegliere i rappresentanti in Parlamento e questo non è un fatto positivo. Sul resto mi sembra che il sistema tedesco può reggere ed è un sistema sicuramente equilibrato, vedremo che cosa deciderà il Parlamento e che cosa deciderà il Presidente della Repubblica per quanto riguarda la data delle votazioni e un eventuale sceglimento anticipato delle Camere. Noi come amministrazione vogliamo portare a casa molti risultati prima che vengano sciolte le Camere.